Questo appuntamento è offerto da Novo Autoricambi, accessori di tutte le marche, nazionali ed estere. Autoricambi omologati e certificati per auto, moto, veicoli commerciali e fuoristrada. Novo Autoricambi, la soluzione per ogni vostra esigenza. Via Roma 246, Canale. Il magico paese di Natale si è trasferito a Canale e a Govone, tema dell'edizione 2018 l'incantesimo che si vive tra sogno e realtà. Un'occasione per liberare la fantasia e sentirsi come in una favola. Entrambi saranno visitabili sino al 23 dicembre. A Govone, il format giornaliero propone il mercatino di Natale con i suoi artigiani provenienti da tutta la penisola e la casa di Babbo Natale. Per gli adulti, numerosi appuntamenti di street food e degustazioni. A Canale, mercatini il 9 ed il 16 dicembre. Date costellate da eventi collaterali come concerti, spettacoli e distribuzioni di panettone. Questo appuntamento è stato offerto da Novo Autoricambi, accessori di tutte le marche, nazionali ed estere. Autoricambi omologati e certificati per auto, moto, veicoli commerciali e fuoristrada. Novo Autoricambi, la soluzione per ogni vostra esigenza. Via Roma 246, Canale. Novo Autoricambi, la soluzione per ogni vostra esigenza. Novo Autoricambi, la soluzione per ogni vostra esigenza.